Signor Presidente della Repubblica, in qualità di Comandante Generale, io la ringrazio vivissimamente dell'onore che ci concede con questo incontro per il 201esimo anniversario della Costituzione dell'Arma dei Carabinieri. L'Arma festeggia il primo anno del suo terzo secolo. È una storia lunga e gloriosa. L'Arma assicura ai nostri concittadini la tutela della sicurezza, assicura la libertà e la legalità della convivenza civile. I nostri concittadini sanno che l'Arma, insieme alle altre forze di polizia, è impegnata contro la delinquenza comune, contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo. Io rivolgo a voi, a Comandante Generale anzitutto, a voi perché venga trasmesso a tutti i carabinieri ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati, i carabinieri. L'augurio più grande, l'apprezzamento del nostro Paese, la gratitudine che io esprimo a nome dei nostri concittadini e l'augurio per l'attività che ha visto un nuovo terzo secolo di vita dell'Arma. Auguri.